CRASH BANDICOOT 2 CORTEX STRIKES BACK Ciao a tutti sono Tifetta e bentornati in un nuovo gameplay e la continuazione di CRASH BANDICOOT ENSEIN TRILOGY Ci siamo levati il primo dai coglioni e adesso è l'ora di iniziare il 2 Wow 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 Via E chi se ne frega tanto è quello l'alto salvataggio chi se ne ha fatto un cazzo proprio Scivolata panciata big fail sto arrivando Ovviamente Ma dottor Cortex per raggiungere la massima potenza non basta il suo cristallo ci servono i 25 cristalli normali sparsi sulla superficie ma come faremo a raccoglierli? Non abbiamo più agenti sulla terra Posso Pensi che non sia al corrente della situazione? Se non abbiamo più alleati sulla superficie dovremo trovare un nemico Noooow Crash 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 La mia batteria è andata Renditi utile e portamene una nuova fratellone Sì signora patogona Oh fammi vedere Oh 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 Nio dio Guardate come Niuu Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp incesto ok basta oddio ma corre più veloce ho una mia impressione o mi sono talmente abituata all'uno che mi sembra vada più veloce oh che bello ciao Burdegaard guarda come scivola guarda come scivola guarda come faccio la panciata guarda aspetta che non cadiamo nel burrone facendo le figure di merda mele anzi frantino no ma nessun problema perché io adesso ho la covalciata si goduria ne vedo con gli occhi la stanza del teletrosporto e chi è bene 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 Crash Bandicoot benvenuto mi scuso per il rozzo trattamento che ti è stato riservato ma temevo che un invito scritto non sarebbe bastato mi serve il tuo aiuto intorno a te ci sono cinque porte ciascuna nasconde un cristallo simile a questo portami i cristalli Crash per ora è tutto ci rivedremo presto mi sono persa il dialogo dannazione mi toccherà guardarmelo in fase di montaggio porca troia vabbè senza ulteriori indugi andiamo avanti col primo livello aspetta che avvicino un pochino andiamo avanti turtle woods turtle woods prendiamo prima tutte le casse poi lo rifacciamo senza prenderle così ci danno la gemma eeeh eeeh merda ero convinta di averlo beccato invece o ce l'ho sborato io non ce la farò mai allora facciamo una cosa del genere ok Ok. Sì, scivolata, un bel時候. знаpe la scivolata, ragazzi! un uccello Banus! Puff! Nooo! Peccato! Ok dio cancaro! Aspettate no! Cioè finisco il livello e poi arrivo. Ma a me sembra che corra più veloce. Dopo mi sta bene eh per carità. Sono totalmente abituata all'1. Dopo quando torni qua... Cioè se tu inizi col 2 poi vai con l'1, ti viene un infarto. Mi viene veramente... Quindi ho fatto bene a già giocarmi l'1, a prendermi tutte le reliquie. Non ce la posso fare? Ma dio buono! Ma... Che ragazzo voglio... Ammi la gemma è così bella! Ammi la gemma è così bella! Già arriva che sto registrando! Ammi la gemma è così bella! Non posso contenerla! C'è in gioco il futuro del mondo! Devi assolutamente trovarli e portarmi! Crash mi senti? Crash? Crash? Ci sei Crash? Crash mi senti? Ah! Va e riempino! Ok! Tratta bene le casse e otterrai una gemma speciale! Che cazzo di consiglio è tratta bene le casse? Ma stiamo scherzando? Si cronometro senza scarpe ma siamo imbecilli! Credo che devo stare a tenda che i nemici volando non mi piglino le casse! Hay eh... Vì! Vf... Vrr. I. 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 ora qua non rischio con la scivolata facciamo così esatto anche se prendo un po di frutti va a fangulo di abono divana volevi farmi fuori volevi volevi invece cazzo cazzo gemma blu la gemma blu e anche qui il primo livello è andato tutto dal culo se l'hai tirato fuori ma va bene lo stesso bravo fa il balletto così stai aiutando cortezza a ritrovare i cristalli eppure eccoti qui con una gemma interessante le cose stanno così gli alleati cortex sono i miei giurati quindi farò tutto il possibile per fermarti se davvero vuoi salvare il mondo devi raccogliere le gemme non cristalli trova tutte le 42 gemme e le userò per sparare un raggio laser che distruggerà cortex e la sua stazione spaziale ma fino ad allora ti impedirò con tutte le forze di raccogliere i cristalli sì ma stai buono stai buono per carità divina porca troia tu e la tua boss fight di merda nel primo sta buono buono sta buono buono ok le secondi abbiamo in ordine show go show sì show the show must go snow go ghiaccio sì sì che bellezza con la scivolata con le nitro in mezzo ai coglioni me le tieni te sì me gusta non posso prendere c'è ma cosa però posso prendere tutte le case boom pinguino wii pii mi distrugge le casse c'è wii pii i love ghiaccio voglio il ghiaccio voglio la neve voglio il freddo basta quest'estate di murder voglio anch'io il ghiaccio wii 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 piglami questa tnt mo cazzo mo cazzo mo cazzo mo cazzo crash please ok qua miam uii wii ok ciappa ciappa alto là il sudore no ma aspetta un attimo più che rossa è fucsia l'hanno fatta fucsia c'è un mocio particolare mi piace tanto il colore dell'estate scivolata guardate come usufruisco della scivolata in tutte le situazioni perchè mi è mancata perchè io la voglio non l'avevo nemmeno visto il cristallo fate conto voi non l'avevo nemmeno non l'avevo nemmeno non l'avevo nemmeno gemma rossa non ci possiamo fare niente non mi ricordo nemmeno qual era il livello specifico in cui potevamo prenderla adesso se li vedo mi ricordo dove sono i percorsi segreti però adesso dire in quel livello lì c'è la strada alternativa proprio no quindi sottovalutate 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 bravo dal culo puzzolente bravissimo quella gemma sarà buonissima per colazione bravo gioisci e rallegrati che hai fatto un buon lavoro allora hang it questo dovrebbe essere quello della moto d'acqua in teoria in teoria e dovrebbe essere anche il livello che devo finire il livello in un determinato tempo quindi facciamo tutto quello facciamo quello per primo così ce lo leviamo dai cazzo madonna putzana Eva come faccio a fare queste feli clamorose faccio il salto bene o no? ma vabbè 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 questo ci vuole un salto piccolino petit petit come il buco del culo di shark per sole e probabilmente sono ah no eccolo lì il timer allora andiamo veloce come il vento mascheri veloce come si usi un moto d'acqua grazie grazie questa forma blu e che ce la faccio? veloce come il vento veloce come il vento yeee wii ok mi sono tornata in mente vedendo il timer le reliquie del primo oddio mio sto male sto malissimo bravo giuisci giuisci che siamo stati bravi noo che rompe il cazzo tre cristalli niente male vedo che inizi a prenderci la mano devo risparmiare energia ci risentiremo quando avrai trovato il quinto cristallo va bene sei tranquillo non ti preoccupare qua c'è anche il percorso alternativo e che cazzo quante cose ci sono da fare in questo livello ci sono le casse e anche il percorso alternativo porca troia se cazzo in il acqua non ti preoccupare se cazzo in questa non ti preoccupare se cazzo in questa non ti preoccupare cosa non ci preoccupare Quella mina lì non mi piace, non mi è piaciuta nemmeno prima. Non mi piacqua manco prima! Perchè prendiamo un po' di mele perchè non sono messa così bene a vite quindi... Perchè dopo se ne ho perso un paio da cogliona quindi... Figliamo tutto! Ok let's go! Si l'ha scivolata ragazzi! Che bellezza! Eh no! Questo no! Questo mi era piaciuto un po' meno! Ma addio bombolo! Vabbè vabbè che tanto devo andare a trovare l'interruttore quindi... Vabbè! 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 Ciaone piante carnivorale in fondo! Ciao! Vabbè! Grazie! Nooo! come si fa ad essere così mongoli ma dio santissima vergine ma dio santo per non dire qualche altra parolaccia guarda come si sta divertendo crash a differenza mia e fammi lo sprint dai come una scuola bravissima come una scuola e già veloce ma no ho detto di darmi uno sprint bravissimo adesso con calma vediamo di non morì di nuovo ok no è tutto l'acquenza ok buono allora visto che sta scadendo la mezz'ora questo è l'ultimo livello della parte però vado avanti ancora un pochettino brava le dà il culo bravissimo ok allora il mio salvataggio è questo buon grazie mille per la visione e ci si becca alla prossima parte di Crash Bandicoot due Strikes Back Strikes Back Strikes Back mail su Strikes Back su Crash Bandicoot and Same Trilogy ce la posso fare ce la posso fare ciao alla prossima buon grazie mille per la visione